1.301 e 1.302 che sono in distribuzione. Informo l'Assemblea che in relazione al numero di emendamenti presentati la Presidenza applicherà l'articolo 85 bis del regolamento procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive ai sensi dell'articolo 85,8 ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. A tal fine il gruppo misto per la componente politica minoranze linguistiche è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti. Se nessuno chiede di intervenire invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. Prego, onorevole Bonafede. Onorevole Bonafede, siccome lei non ha i segnalati gli emendamenti, li rileggo io e lei mi esprime il parere, perché lei ha un fascicolo con molti emendamenti, compresi quelli non segnalati. Allora, 1.155 Labriola. Sì, parere contrario. Andiamo a pagina 2, 1.153 Colletti. Allora, Presidente, su questo emendamento, così come su un altro, ci tengo a dire che il parere personale del relatore era ed è un parere favorevole. Tuttavia, esprimendo il relatore il parere del Comitato dei Nove, il Comitato dei Nove esprime parere contrario riguardo a questo emendamento. 1.35 Giuseppe Guerini. Parere contrario. Ah, è ritirato, mi scusi. 1.300 la Commissione. Favorevole. 1.59 Mazziotti di Celso. Contrario. 1.160 Sciullian. Favorevole. 1.52 Mazziotti di Celso. Contrario. 1.150 Mazziotti di Celso. Contrario. Andiamo a pagina 4. 1.54 Mazziotti di Celso. Contrario. 1.164 Colletti. Qui vale lo stesso discorso fatto per il precedente emendamento. Dico semplicemente che l'emendamento riportava la possibilità di avere dei danni punitivi riguardo all'azione di classe. Comunque, anche rispetto a questo emendamento c'è un parere favorevole e personale del relatore che però tuttavia esprime un parere contrario del Comitato dei Nove. 1.165 Sciullian. Favorevole. 1.302 della Commissione. Favorevole. 1.166 Sciullian. Favorevole. 1.171 Sannicandro. Contrario. 1.167 Sciullian. Contrario. 1.152 Mazziotti di Celso. Contrario. 1.175 Giuseppe Guerini. Contrario. 1.170 Sciullian. Qui c'è un invito a ritiro dovuto al fatto che l'emendamento della Commissione, il secondo che lei mi ha citato, è un emendamento che in qualche modo assorbe, recepisce, la razio dell'emendamento Sciullian in questione. 1.301 della Commissione. E' favorevole. 1.172 Ricciatti. Contrario. 1.173 Daniele Farina. Contrario. Perfetto. Ah, ce n'è un aggiuntivo. 1.0150 Colletti. Contrario. Ok, abbiamo finito l'articolo 1. Cominciamo con il Governo. Pareri conformi a quelli del relatore. Grazie. Allora, passiamo ai voti. 1.155 Labriola. Se nessuno chiede di intervenire lo metto in votazione con il parere contrario di Commissione e Governo. è aperta la votazione. Ci siamo? Fabri. Fabri, provi. Invernizzi. Pancredi.